Salvare il raccolto in agricoltura e tutelare migliaia di lavoratori stagionali stranieri. I segretari generali di CGL e Fly CGL Campania, Nicola Ricci e Giuseppe Carotenuto, lanciano un appello al governatore della campagna, Vincenzo De Luca, affinché intervenga sul governo per salvare il comparto agricolo regionale. L'emergenza coronavirus, infatti, sta provocando notevoli danni alle campagne di raccolta, soprattutto per la mancanza di mano d'opera. Senza raccolto si blocca la filiera agroalimentare, mettendo a rischio l'approvvigionamento alimentare e oltre 35.000 posti di lavoro nella nostra regione, l'allarme dei sindacati. Intanto, nelle ultime ore a Scafati, si sono registrati 5 casi di contagio tra cittadini stranieri che lavorano nelle campagne. Il sindaco Cristoforo Salvati è corso ai ripari, predisponendo 13 regole da seguire che sono state tradotte anche in arabo e francese. Una problematica che, secondo Anselmo Botte della CGL Salerno, è legata soprattutto alle condizioni abitative di queste famiglie. Si tratta di lavoratori che vivono in situazioni e condizioni abitative molto degradate. La gravità della situazione è dovuta appunto a situazioni abitative dove c'è molta promiscuità e quindi c'è molta più fertilità per quanto riguarda il diffondersi del virus. Noi riteniamo che oggi, come si è fatto anche per la popolazione italiana, sia fondamentale una informazione che poi dove è possibile cercare di capire come intervenire in queste situazioni abitative.